Ci hanno sfragellato, questa è la seconda macchina che ci sfragellano Questa notte l'hanno parcheggiato Era parcheggiata la notte Un secondo Alla porta di casa un passante ha visto la macchina come era e ha chiamato la polizia La macchina ha chiamato i pacchetti di sigarette buttati poi davanti casa nostra La macchina ha chiamato i pacchetti di sigarette buttati poi davanti casa nostra La macchina li trovi qua o li trovi alla casa scettola No, l'hanno accaduto questo La macchina di sigarette lo roccio Può essere, si, ha scatrastato la parte laterale e se ne è riuscita a andare, capito? No, niente, ma probabilmente non si è facciato da nessuno.